Ciao a tutti, oggi è domenica, guarda che bellissima giornata, venire sul vlog oggi qua fuori per farti vedere che bellissima giornata di sole che c'è, una bellissima domenica c'è qua il Bob e la Kiki che prendono il sole, guarda che bello il sole guarda qua, tutti a casa grazie a Dio, non c'è nessuno, solo io che faccio qua il video sto andando giù della mia socia a lasciare il pane che c'è qua, un po' di pane e lei dà sempre il pane, quelli che avanzano ai cani, guarda che bello il giardino la nonna li fa proprio bene, lei è bravissima, guarda che giardino bello qua quella lì è uscita, il fiore, che bello guarda qua e io ci invito a essere qua con me in questa domenica ci faccio vedere un po' della mia giornata, da quello che facciamo per mangiare oggi Marcello vuoi fare un arrosto un po' diverso è bella la mia bici, mi viene nostalgia di uscire e così ci faccio vedere tutto cosa faremo oggi, tutta questa domenica la casa è già sistemata, che io avevo pulito benissimo ieri e oggi non c'è tanta cosa da fare, dopo faccio un giro su, vi faccio vedere al massimo vado sopra a mettere a posto il letto perché Marcello si è appena alzato andiamo a fare la mia socia oggi lui vuoi fare un arrosto diverso, ha preso lì e perso di carne e adesso lo taglia e ho detto a lui di cambiare questo coltello perché non andava bene ce l'avevo un altro che tagliava più bene adesso lui lo taglia e mette dentro un po' di formaggio non lo so dove l'hai trovato questa ricetta io l'ho chiesto, ma lui ha detto che non c'è da nessuna parte è lui che ha inventato, ha voglia di fare le cose nuove quindi vediamo come sarà questo arrostino qua, un po' diverso e io penso che uscirà bene perché lui è bravissimo a fare da mangiare quando lui si mette a fare fa bene taglia il formaggio e vediamo come sarà questo arrosto prendiamo i persettini e mettiamo dentro qua arrosto alla Marcella come vi ho detto è un'invenzione di lui lui adesso che c'è questa quarantena è sempre a fare qualcosa in cucina quindi si mangia benissimo meno male sono fortunata, ho già detto ho un marito che cucina è bellissimo quindi adesso mette il formaggio dentro dopo li chiude e è bene la carne vediamo come uscirà vediamo, vediamo adesso il rosmarino che bel profumo lui ha fatto la prova lì con il rosmarino ma mi ha detto che prima devi mettere la pancetta quindi prendiamo la pancetta lui le mette sopra e dopo bisogna chiudere bene la carne, il perso di carne lui prende sempre il perso di carne e fa lui l'arrosto ci sono già da vendere anche nel supermercato qua vicino quello già pronto con il rosmarino tutto attaccato, tutto bello fatto con la pancetta ma lui le piace fare lui quindi vediamo come uscirà sono curiosa ragazzi perché è la prima volta che lui fa in questo modo la carne io so che lui è bravissimo e vediamo un po' qua come sarà la storia adesso mette il rosmarino per diventare profumato e buono mette a posto per sistemare bene la carne vediamo come uscirà curiosa adesso è già pronto guarda com'è bello già deve finire e dopo bisogna cuocere mamma mia signore che lavoro se ero io prendevo già pronto ragazzi io non cucino niente guarda che bel persetto di carne bello veramente prendiamo il burro e lo mettiamo qua nella pentola adesso bisogna sciogliere bene il burro mettere dentro l'arrosto e lasciare rosolare senza girarlo mi ha detto lui è stato bel preciso un po' di sale e dopo metteremo anche il vino vi faccio vedere adesso mettiamo il vino e lasciamo uscire bene il vapore del vino tutto fra un po' bolli che buono adesso si inizia a bollire e a evaporare l'alcol del vino dopo che si evapora puoi coprirlo adesso copriamo bene e lasciamo cuocere nel fuoco basso un'ora più o meno penso adesso c'è qua la pentola della polenta questa pentola io la pulisco bene c'è un video qua nel canale per lasciarla bella così e guarda che io la lavo solo una volta a settimana e rimane sempre bella pulita uso sempre una volta alla settimana e metti l'acqua e dopo adesso iniziamo a mettere qua la polenta lui la fa girare un po' la lascia e la mischia un po' così per dopo mettere il motore di questa pentola vedrai che bello il punto giusto prima di mettere il motore è questo guarda rimane già un po' bella la polenta bella mischiata bene adesso lui inizia a mettere qua il motore di questo pentolino che è molto buona questa pentola lei mischia la polenta per un'ora guarda il tempo che c'è bisogno di cuocere da sola è troppo bello non c'è bisogno di essere lì sempre a fare chissà che cosa per fare la polenta adesso guarda lui finisce qua di sistemare tutto dopo metti la spina è solo farlo partire il motore e lei inizia a mischiarsi bene da sola c'è il modo giusto di girare lui la sistema bene e guarda qua che bello questo qua veramente non c'è bisogno di essere qua a mischiare lei fa da sola dopo un'ora o un'ora e mese è pronta la polenta vediamo il nostro arrostino c'è un po' di acqua in più per fatto del formaggio e qua la polenta continua adesso iniziamo qua a tagliare il nostro arrosto che è uscito benissimo il profumo non vi dico che buono che è e c'è un po' di brodo in più ma è per il formaggio ma è buonissimo veramente è cotto bene e adesso iniziamo solo a mettere dentro della pêntula ogni percettino ragazzi che buono mi viene acqua in bocca veramente profumato non vi dico che bello lui non sbaglia mai fa sempre buono faccio sentire il profumo guarda che buono senti il profumo guarda che bello ragazzi è buonissimo ho finito tutto ho sistemato qua la casa è tutto bello sistemato abbiamo finito di mangiare non vi dico che buono che era ragazzi lui non ne sbaglia mai Marcello guarda che bello la sala tutto bello sistemato anche la cucina adesso usciamo un po' vediamo ancora com'è qua fuori io mi auguro che ti sia piaciuto questo video questa ricetta bellissima buonissima e ti dico fai anche tu a casa perché è veramente buono esce buonissimo con il formaggio il gusto il sapore è veramente è espettacolare un bacio alla prossima ciao ciao